Noi dobbiamo dare un segnale forte alla destra. Votiamo un simbolo dell'Italia Unita. Uno manchezzo? Garibaldi! Proclamo eletto Presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Garibaldi. La votazione non si può annullare. E perché? Ci sono quattro Giuseppe Garibaldi. Uno ha più di 50 anni ed è in regola. Benvenuto Presidente. Dire che ci siamo sbagliati non si può fare. Il suo gradimento è sceso al 25%. La gente dice che è inadeguato. Ha ragione. Invece di spararci tra di noi, tiriamo tutti su di noi. Non addietro nessuno. In tre mesi va a casa. Ma se sei un grande pescatore, sarai anche un grande presidente, no? Cosa dice che guadagno 239.000 euro all'anno? Ma io non mi voglio tutti quei soldi. Cosa me ne faccio? Anche perché, scusa, le leggi le hanno fatte per noi. Se non le capiamo, come facciamo a rispettarle? Non firmo, fin glielo capisco. Una capricciosa. Presidente, non ci siamo. Non riesco a muovermi. Eppure si muove, presidente. E quello non sono io. È un muscolo involontario. Mamma. Presidente. No, no. Attento. Questo è uno di noi, è uno del popolo. Mio nonno era bersagliere. Anche lei è bersagliere. Ah sì? A un giro, presidente. Sa come dice mio nonno? Ha detto, io non so se è vero che tutto quello che fai torna indietro. Però mi piace crederci. Finisco colazione e sciolgo le camera. No, 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 no. Grazie.